Ciao a tutti ragazzi da Corazionto 9, bentornati sul mio canale per questo nuovissimo video e sarà un video davvero speciale perché non è solo l'apertura di questo splendido pacchetto di esplosione plasma ragazzi, ma sarà anche un video di ringraziamenti. Quindi ho fatto questa pensata, uniamo la bellezza dell'apertura con la bellezza dei ringraziamenti, dei saluti e delle pubblicità. Quindi in pratica ragazzi per ogni carta di questa bustina associerò un nome, i primi 8 che mi hanno chiesto di farli, pubblicità o comunque un saluto. Spero vi piaccia, oh che peccato volevo tenerelo. Spero vi piaccia queste idee ragazzi, però a quanto pare il blister, hanno il blister non piaccio perché qua non piaccia questo blister. Bene ragazzi, quindi io ho già la lista qui alla mia destra per vedere tutti i nomi ragazzi, dei primi 8. Mi dispiace perché ce ne sono molti, però ne farò altri di questi video, quindi chi non sarà nominato ragazzi non vi preoccupate, è inutile riscriverlo perché c'è la lista qui che ho fatto e quindi in un prossimo video che spero sia abbastanza prossimo, nel senso che sia abbastanza breve di arrivare dopo questo. Mi farò ringraziamenti anche ai prossimi 8, perché 8? Perché anche le altre volte ho fatto 8, quindi è giusto così. Quindi mi rivolgo a tutti quelli che hanno già fatto, hanno già chiesto di aspettare. Invece chi ragazzi, questa è una cosa importante, chi deve ancora chiedermi pubblicità o saluti, lo scrivo qua, solo sei nuovi però. Bene ragazzi, quindi una bustina di esplosione plasma perché per il ringraziamento stiamo tralasciando questa bellissima bustina. Esplosione plasma, ecco qui il codice. Ebbene ragazzi, una carta a testa, vediamo, sono 8, le persone da ringraziare e 10 le carte. Allora, vediamo. Abbiamo questo bellissimo Drift Blue che dedichiamo ragazzi a Meloetta Ex, quindi saluto Meloetta Ex, utente YouTube, quindi saluto Meloetta Ex. Dynamo che dedico ragazzi a GoDJ, grazie anche a te. Soak che dedico a Francesco Corsaletti, grazie mille. Mentre dico grazie mille ovviamente pubblicizzo, anche perché i nomi li dico. Poi questo Kangaskan bellissimo lo affido a Lorenzo Capodici. Poi questo Larvesta lo affido a Torolta Cacciatori Panini. Poi, caspita non ho fatto il trick, ho aspettato un secondo. Ok. Poi eravamo arrivati lì, ok. Abbiamo questa bellissima energia plasma che dedico a Vladara 75. Questo specchio argento, ragazzi, che dedico a Piero Francesco Cipolla. E poi abbiamo... Quante carte abbiamo ancora, ragazzi? Quante carte abbiamo? Allora, abbiamo fatto una testa, sì. Vabbè, allora dedichiamo questo Lilep a... Aspetta che ho contato male. No, ne ho fatti io già 8. Qua ci sono le carte. 3, 6, 7. Vabbè, ragazzi, questo Lilep... Comunque, il ragazzamento li ho fatti, ragazzi. Per essere corretti li dico tutti. Quindi, Meloetex, Godij, Francesco Corsaletti, Mario Cascone, Lorenzo Capodici, Torolta Cacciatori Panini, Vladara 75 e Pierfrancesco Cipolla. Perfetto, adesso la Reverse e la Rara vanno a me, ragazzi, me le dedico a me stesso. Quindi, Catlina e Reverse e un bellissimo Archeus Olo, ragazzi. Fece già questi ringraziamenti con una bellissima Olo. Bellissima, davvero. Spero che questo metodo, ragazzi, vi piace perché unisce un po' i, diciamo, tra virgolette, fan di calcettori, ma anche quelli di Pokémon, grazie a questo qua, questa bustina. Quindi, spero il metodo vi piace. Ragazzi, un bel mi piace. Iscrivetevi e commentate. A maggior ragione se siete stati nominati. Se volete essere nominati, non lo siete ancora stati e non mi avete ancora scritto. Scrivetemi qua da basso, altrimenti vi ho già in lista, ragazzi. Quindi, un bel mi piace, iscrivetevi e commentate, ragazzi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao da Corazzo 1.9.